... Qui, nel Consiglio degli Dei, decidiamo come amministrare l'Olimpo e ci occupiamo delle cose che accadono nella Terra. Certo che questi terrestri sono sempre infelici, pensano sempre e solo a fare guerre. I Galli contro i Romani, i Greci contro i Fenici... È vero e dobbiamo fare qualcosa! Io sono Minerva, la Dea della Guerra e della Strategia Militare. Sono figlia di Zeus e sono una componente della Triade Divina, composta da Diana, me e Venere. Io sono nata dalla testa di mio padre, Giove. Lo vedo laggiù, seduto sul suo trono. Andiamo! Sono Giove e questo è il Consiglio degli Dei. Ve li presento! Io sono Vessola, Dea del Focorale e nipote di Zeus. Io sono Cerere, la Dea della Fertilità del Terreno e dell'Agricoltura. Ciao, io sono Artemide, una delle Dei dell'Olimpo. Sono nata da Zeus e da una Dea Secondaria. Sono Dea della Caccia principalmente, ma sono anche la Dea degli Animali, delle persone che non si vogliono sposare, perché io non mi sono mai sposata. Ah, vi devo anche raccontare che Giunone, moglie di Giove, ha ostacolato la mia nascita dal principio perché era gelosa. Ah, eccola! Io, Giunone, ho ostacolato la nascita di Diana e Apollo perché ero gelosa di mio marito Giove. Ho minacciato tutte le isole della Grecia dicendo loro che sarebbero diventate aride se avessero lasciato nascere Diana e Apollo lì. Ma infine tutto il mio sforzo non è servito a niente perché, infine, l'isola più arida di tutta la Grecia ha fatto partorire Diana e Apollo. Io sono Venere, la Dea dell'amore e della bellezza e sono nata dalla spuma del mare. Dall'Olimpo è tutto! Ciao!